Interrotta la linea regionale ferroviaria a causa dell'incendio di un vagone di un treno merci, ci troviamo alla stazione di Laterina. I vigili del fuoco del comando di Arezzo di staccamento di Montevarchi sono stati impegnati da questa notte. Il vagone merci che è andato in fiamme conteneva cartone compattato. Non ci sono persone coinvolte nel rogo. La linea ferroviaria regionale è stata interrotta per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza. È stato messo a disposizione un collegamento sostitutivo tra Montevarchi e Arezzo. Sul posto anche i carabinieri, la polfer e personale tecnico delle ferrovie dello Stato, che ci tiene a precisare che il treno merci è di un'azienda privata. La linea direttissima non ha subito interruzioni. Le operazioni di ripristino invece di quella regionale sono ovviamente legate alla rimozione del vagone che, dopo lo spegnimento delle fiamme, stanno impegnando le squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Municipale di Laterina non si segnalano particolari disagi percepiti dalla popolazione residente in relazione al fumo sprigionato dall'incendio.